Dopo il grande successo della prima chat che vorremmo replicare, ci siamo accorti di voler parlare di un nuovo argomento, di un argomento che ci sta a cuore, perché comunque in questo periodo bisogna cercare anche di trovare nuove persone al tavolo da gioco, quindi trovare nuovi appassionati e per farlo bisogna farli appassionare molte volte, perché ricordiamo che la maggior parte delle persone non ha idea di che cosa sia attualmente il mercato ludico. Per far questo sia Riccardo, sia Andrea che Adriano hanno preparato qualche scatola per vedere quali sono i titoli migliori per cercare di tirare dentro qualche neofita. Che magari compra anche qualche gioco al posto nostro, se almeno ci scarica un po' le spese. Diciamo che il MyGDT si apre con un gioco che fa parte di questa categoria, perché il primo articolo fu proprio su Carcassonne, che è un po' uno dei capostipidi di questi giochi che aiutano a portare dentro nuovi appassionati. Penso che voi abbiate tutte le scatole posate in mano, iniziamo da Adriano, vediamo che cosa ci racconta e quali titoli ci dice. Lui che ha un ampio spettro, nel senso che è il nostro cavallo di razza sui giochi di guerra, quindi bisogna che ci dica anche come tirare dentro per far giocare a giochi di guerra. Quindi vediamo che cosa ci racconta. Arriviamo anche a quello. Ma intanto Carcassonne per me è un classico per introdurre al gioco neofiti. A questo proposito ogni volta che prendo la scatola mi torna in mente quella volta che eravamo in vacanza con mia moglie in Trentino, finiamo di cenare e prendiamo Carcassonne e ci avviamo nell'all dell'albergo per fare la partita. Si avvicinano due bambine di sette anni. Una era la figlia degli albergatori, l'altra era la cuginetta. Vedono che stanno iniziando a giocare, ci chiedono ma che cos'è? Dico, è un gioco da tavolo, ma possiamo giocare anche noi? Ma certo, vi spiego le regole e iniziamo a giocare. Finisce la partita, quindi eravamo io e mia moglie e le due bambine. Allora, adesso non ricordo se la prima era stata la figlia degli albergatori, se è arrivata prima la figlia degli albergatori o la cugina. Comunque, una era prima, l'altra era seconda e poi io e mia moglie arrivavamo dietro. Ah, dico, vi è piaciuto? Sì, sì, certo, possiamo fare un'altra partita? Ma sì, volentieri, facciamo un'altra partita. Seconda partita, uguale. Praticamente ci hanno asfaltato due volte, ma nel senso abbiamo giocato chiaramente senza essere cattivi, però abbiamo giocato senza neanche regalare nulla. Per cui veramente un bellissimo ricordo. A volte i neofiti sono sono veramente meravigliosi dal mio punto di vista. Poi un altro gioco che per un bel periodo è stato uno dei cavalli di battaglia per introdurre neofiti è questo Croni di Katana in edizione Mayday, credo che sia. Mayfair, scusate. E niente, tanto, come dicevo, non ha testo, come dicevo prima, non ha testo sulle carte, c'è solo regolamento in inglese, quindi si è giocato con tutta tranquillità. Qualcuno dice che, ho letto recentemente che è un gioco invecchiato, ma concordo poco. Vabbè, comunque, secondo me è un tanto titolo valido. Diciamo che conosco, chi dice che è un gioco invecchiato, dice più che altro invecchiato male. Diciamo che ovviamente ci sono alcune cose che nei giochi moderni chi gioca tanto scopre e vede che sono delle mancanze rispetto ai giochi più moderni. Diciamo che però quanta gente tira dentro Katana. Quanta gente ha iniziato e ha ripreso a giocare grazie a quel gioco lì, quindi bisogna un attimo vedere chi dice che è invecchiato male, perché è logico che un hardcore gamer ti dice che è invecchiato male, uno che ha una libreria molto vasta, che gioca parecchio, così ti dirà che è invecchiato male. Ma se devi tirare dentro neofita, prendi Katana e vai quasi sicuro. Sì, no, no, indubbiamente, ma a proposito dell'essere invecchiato male, c'è un articolo che, non ricordo se è di Spartaco Albertarelli, perché non vorrei far confusione, in cui spiega che in realtà non è invecchiato male il gioco, è chi fa questa affermazione che non ha ben chiara alcune cose. Poi ve lo girerò perché l'ho trovato di un interessante, spaventoso. Comunque, al di là di questo, come dici tu Grauco, Katana, colonna di Katana è un gioco che attira tantissimo, perché è alla portata di tutti, è semplice, l'ho fatto giocare a bambini, l'ho fatto giocare ad adulti, è sempre piaciuto, insomma, quindi è una garanzia. Ma all'Alea, all'Alea. Al Katana? No, no, io faccio quello dell'indicato male, ma ha tanta Alea, è solo dei 3-4 giocatori. Sì, però qui entriamo nel discorso del, se c'è il dado è un brutto gioco perché c'è troppa Alea, ragazzi, ma l'Alea c'è anche quando si esce per strada e si esce, si attraversa sulle stesse pedonali, perché se guarda il telefonino... E' un'ultima cosa, un'ultima cosa, un'ultima cosa, un'ultima cosa, un'ultima cosa, un'ultima cosa. E' un'ultima cosa, un'ultima cosa, un'ultima cosa, un'ultima cosa. Infatti, no, veramente, no, secondo me c'è una scarca, chi afferma queste cose perché ha una scarsa comprensione di quello che significa l'Alea e probabilmente desidera avere tutto sotto controllo, che ci sta, però vabbè, si giochi un bel German, troverà tanta soddisfazione e va bene così, insomma, non è un problema. Ho letto, ho sentito persone che dicono, eh, però nel Borghè alla fine è l'ancitato, è tutta fortuna, dico, eh, certo, sì, anche in battaglia è tutta fortuna in fondo. Vai e se va bene, va bene, no, non è vero. Però, insomma, il discorso sull'Alea nel gioco è abbastanza vasto, ecco. Giochi con Alea ci sono, hanno una loro... L'Alea si introduce perché ha un senso, ecco. Se non si capisce il senso, certo, poi si dice che l'Alea è una brutta cosa, però andrebbe approfondito un attimo di più per capire qual è il senso, qual è il significato, cosa vuol dire, allora poi può tranquillamente pensare che preferisci giochi in cui c'è maggior controllo, ma questo non significa che il gioco con Alea non abbia il suo perché, ecco. Comunque, tornando a Bomba, ai giochi, adesso ho iniziato mostrando due giochi che per me sono due cavalli di battaglia, sono stati dei cavalli di battaglia per diverso tempo, insomma. Ultimamente uso giochi un pochino diversi. Intanto ho una breve apparizione con Hive, ma perché? Perché Hive ha un vantaggio, che è per due. Allora uno dice, qual è il vantaggio? È il vantaggio che se ho di fronte una sola persona che vuole provare qualche cosa, che non sia troppo complicato per avere un'idea, Hive potrebbe essere un gioco con una sua validità, ecco. Poi, un altro gioco che ho visto, che ho riscontrato essere piacevole, è questo Medieval Academy, che se, infatti, è della Uplay, va bene, non so raccontarvi il gioco perché sennò diventa una cosa noiosa. Sappiate solo che è un gioco divertente. Quando avete, se vi capitale l'occasione, provatelo perché è veramente alla portata di tutti, con una durata limitata, e c'è molta, molta competizione da mettere in campo. Poi arrivo al wargame che ho ripreso in tempi abbastanza recenti. Ora, quando provo a fare, scusate, devo fare un attimo di spazio, perché quando provo a fare, avvicinare qualcuno al wargame, tendo ad utilizzare o Memoir 44 o, scusate, devo centrare un attimo, vediamo un po', ok? Questo The Great War, che è il figlio di Memoir 44. Ha tutti i vantaggi di Memoir 44, quindi la presenza delle miniature. Ah, questa alea, quindi i dadi. Cosa terribile. Però è stato migliorato rispetto a Memoir 44 perché è stato realizzato un secondo mazzo di carte che consente di acquisire carte che possono essere utilizzate anche quando le carte del mazzo base non ti forniscono la possibilità di agire in determinati settori del campo di battaglia, che è un po' il limite di Memoir 44. Quindi questa cosa è stata superata con questo accorgimento. Ed è questo motivo per cui, diciamo, spesso lo set-up, come si usa a dire. Naturalmente il vantaggio dei giochi con le miniature, ma questo potrebbe valere anche per qualsiasi altro gioco di livello non troppo alto, è che attira subito l'occhio. Quando abbiamo provato a organizzare le giornate di giochi in biblioteca, molti si fermavano a dare, quantomeno a dare un'occhiata, perché il campo di battaglia, le trincei, i carri armati, le truppe schierate, e quindi chiedevano di cosa si trattava, e via dicendo. Con questo gioco, vi racconto un aneddoto, perché mi ha divertito un sacco. Stavo aspettando un ragazzo che aveva provato Memoir 44, per fargli provare The Great War. È arrivata una mamma con due bambini di cinque anni, che si sono messi a guardare, proprio con le mani aggrappate al bordo del tavolo, a guardare così, e, signore, ma che gioco è questo? È un gioco di guerra, guardate, qui ci sono, vedete, gli inglesi di qua, i tedeschi di là, prima guerra mondiale, vedete, queste sono le trincee, qui c'è il filo spinato, qua, ma a un certo punto il bambino dice, signore, mi scusi, ma quanti anni bisogna avere per giocarci? E dico, guarda, ma tu quanti anni hai? Mi dice, cinque, guarda, sono sufficienti, vuoi provarlo? Sì, sì, ma può giocare anche il mio cugino? Ma certo. E quindi, naturalmente, li ho assistiti nel giocare, dopo un'ora e un quarto, in cui si sono massacrati con assalti di fanteria, con mitragliate, bombe a mano, di tutto, la mamma a un certo punto ha cominciato a fremere, a dire, bambini, però, si è fatto un po' tardi, dovremmo rincasare, perché poi c'è la merenda, e alla fine, legandoli con l'argano e trascinandoli di peso, è riuscita ad allontanare la tavola di battaglia, ma se fosse stato per loro, sarebbero stati lì a massacrarsi ancora fino alla fine. Ecco, quindi questo è ma diciamo, è un bel ricordo, ma perché? Da un lato, i bambini sorprendono sempre, mi hanno sorpreso le bambine di Carcassonne che ci hanno asfaltato, mi hanno sorpreso piacevolmente questi bambini piccolissimi, perché, ma voi vi aspetteranno un bambino di 5 anni che gioca con un wargame e che si accanisce, che ci prende gusto? Per me è stata una sorpresa, ci sono adulti che guardano, chiedono, magari provano un attimo e poi tagliano la corda perché non hanno voglia. Niente, insomma, quindi sono belle esperienze. Ultimo tipico. per andare ai propri figli con i cugini perché Carcassonne, la figlia del ristoratore col cuginetta. Ah sì. Facciamoli giocare più con i cugini. Facciamo un appello, mandate i vostri figli in giro con i cugini e se incontrate a Adriano chiedetevi di giocare. Certo. c'è un titolo che adesso del quale non ho qui la scatola ma so che Andrea ha la scatola pronta che però io l'ho scoperto di recente quindi in domino che appunto ho scoperto di recente me ne avevano parlato me ne avevano parlato già da un po' fantastico che apoteosi ragazzi io sono qui in domino mi spiace sono parenti stretti sono marito e moglie beh in domino è stato apprezzato anche da mia moglie che non è poco ma mia moglie non gioca Giorgio Amballe piace Dixit ha giocato tutta una serie di giochi non intendiamoci bene però tendenzialmente non è però l'ha provato si è divertita ha fatto anche più partite che è una cosa incredibile quindi il domino è un altro gioco che per i neofiti secondo me è veramente molto 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 adatto ecco sì allora guarda sì intervengo perché quando io sono stato il neofita nel senso che io in realtà ho giocato da giovane a Magic queste cose qua poi in tarda età già sposato con moglie e figli ho incontrato Adriano per vari motivi e sono andato a giocare nella famosa taverna di Adriano dove di solito si entrava verso le 10 e mi ricordo una mattina di essere uscito che albeggiava è stato un po' impegnativo e direi che il primo gioco da neofita che mi hanno fatto giocare è stato Empires of the Ancient World di Wallace che è citato dai 120 a 180 minuti per cui è stato il mio primo impatto da neofita è stato questo però che ricordo ne hai però assolutamente positivo insomma diciamo ho cercato di sopravvivere il più possibile a questa cosa qua che cosa propongo io ai neofiti tra virgolette caratterizzo tre situazioni nel senso che mi è capitato di giocare con neofiti nel senso che i parenti i parenti quelli di Natale sei a Natale con i tuoi parenti e non vuoi giocare a tombola o a sette e mezzo perché ti sei spaccato i maroni di farlo e allora un attimo ci sono cugini le cugine di mie le cugine ok no ok no tutto a posto ci sono i cugini e allora ho proposto come dire ho proposto questo che di fondo che è Augustus che fondamentalmente è una tombola potenziata adesso non so come vogliamo chiamarlo è una tombola con gli obiettivi ci sono le caselle che invece di essere caselle sono delle altre cose ci sono i legionari romani invece dei fagioli però di fondo è un po' questo cosa succede? succede che è un po' un tre du gnon perché la tombola la conoscono tutti qui oltre la tombola ci sono degli obiettivi da conquistare delle tessere da fare per completare che ti porta un po' nell'idea del gioco inteso come ce lo immaginiamo noi il gioco da tavolo che può essere che abbia un obiettivo per vincere che non è solamente completare la tessere faccio cinquine e porto a casa due euro che va benissimo eccetera eccetera quindi questo io l'ho portato ci ho fatto giocare più persone devo dire che le persone con cui ho avuto più problemi sono le persone che in realtà avrebbero dovuto avere meno quindi quelli magari un po' più tecnologici un po' più smart un po' più aggiornati che magari giocano sul cellulare non l'hanno capito ci ho provato mentre le cugine i parenti anziani over 70 quelli che vanno in come dire che sono candidati per la vaccinazione adesso del covid l'hanno apprezzato decisamente altro tipo di situazione mi è capitato di di trovarmi a scuola in una manifestazione in cui dei pazzi di studenti hanno organizzato un'aula di gioco per cui era una giornata in cui la scuola organizzava le cose e si sono trovati immaginavano tipo una ventina di persone ne hanno trovate tipo 140 quindi si hanno riusciti a far giocare tutti e questo l'ho proposto è l'ho proposto a dei ragazzi di 15-16 anni che magari hanno già giocato perché sul cellulare giocano a varie robe eccetera eccetera è un gioco carino nel senso che funziona molto bene la meccanica di base è una meccanica di set collection per cui pesco delle carte e devo fare dei set di carte uguali oppure simili in qualche modo per cui non so o colore oppure il set di carte immaginatelo così l'altra cosa vantaggiosa di questo è che in ogni singolo turno posso fare una cosa sola quindi non è che devo scegliere 300.000 azioni una strategia strana ho un'azione da fare che può essere due o tre cose non di più e quindi c'è la parte di set collection quindi di mettere insieme dei gruppi di carte pescandole e poi la possibilità invece della cosa ancora più interessante diventa un gioco di maggioranze sul territorio perché ho la possibilità di mettere delle pedine nel mio colore in alcune regioni e quindi ho degli obiettivi di fare punti alla fine della partita lo posso fare in vari modi appunto con il set collection o con questo è un gioco carino molto molto bello l'unico difetto che gli trovo è quello della grafica un po' scura e cupa che frena un po' però una volta superato quello funziona bene si spiega in tre minuti si capisce facilmente si gioca divertendo e poi ci sono le varianti che sono già poi ci sono le varianti che aggiungono tenete conto che ci sono dentro 12 razze per cui in realtà c'è una certa asimmetria tra le varie partite di cui ne siete solo 6 quindi ogni partita può essere molto diversa dalle altre perché le razze hanno poteri differenti quindi sono un po' asimmetriche però anche lì l'autore suggerisce alcune razze da scegliere all'inizio se uno non ha mai giocato l'altro titolo che propongo sempre perché mi piace molto perché poi è privo di Alea chiaramente è tutto basato su una profonda strategia Camel Up questo funziona bene con gli amici invece della nostra età la serata stai chiacchierando perché? perché sono le scommesse perché fondamentalmente non è un gioco di corse ma è un gioco di scommesse sulle corse noi saremo degli scommettitori e scommettiamo su delle corse di cammelli è un gioco carino ha una meccanica di impilamento dei cammelli che è molto buffa fa molto ridere e se stai giocando appunto con gli amici magari dopo una birra te la racconti e porta anche al prendersi in giro funziona molto bene anche lui ha un piccolo difetto secondo me che è legato al fatto che è dato per mille mille persone cioè da due otto giocatori allora secondo me in otto giocatori è un altro gioco ed è per me personalmente noiosissimo se lo giocate in 4 5 funziona molto bene è molto divertente è un gioco da serata ce ne sono altre 5.000 di giochi che potrei proporre però diciamo questi qua viste le tre categorie amici parenti ragazzi giovani che incontrate io li propongo sempre molto molto volentieri e adesso darei la parola a Riccardo che penso che chiuderà degnamente questa questa nostra caccherata lui non lo sapeva con un altro dei giochi per neofiti per eccellenza di cui lui ha una delle versioni stanno uscendo le versioni anniversario a prezzi spropositati cos'è? Ticket to Ride Ticket to Ride diciamo gli altri però aspetta chiedo di chiudere con quello che è un po' un altro cacasson sicuramente Ticket to Ride è un altro dei giochi caposalvi per far entrare nel ok faccio una piccola premessa quando si poteva non capito quando si poteva che veniva gente a casa magari venivano genitori delle delle amichette delle mie figlie quindi vedevano una marea di giochi cosa possiamo provare e alla fin fine ho iniziato a scegliere un po' di giochi che ho capito possono piacere perché hanno poche regole ho notato che se spieghi per più di 5 minuti chi non è un giocatore lo perdi non ti ascolta più inizia a dire ma si dai iniziamo così che poi capisco che se inizi così non capisci niente e soprattutto giochi che non durino più di 20 minuti 30 perché se fanno una partita in 20 minuti magari hanno capito come fanno e te la rifanno se gli fai giocare Marco Polo che a me piace da matti ma dura un'ora e mezzo a parte che tempo che spieghi le regole le hai persi ma quando hanno finito non hanno capito niente dicono vabbè la prossima volta non ci far giocare a niente che è meglio quindi ho diciamo selezionato giochi che durano un po' meno di mezz'ora e ci sono poche regole tendenzialmente ultimamente ho provato Kindomino che me lo sono portato in trasferta quindi ho fatto giocare i miei colleghi quindi tutta gente della mia età che però l'ultimo gioco che avevo giocato forse era davvero Monopoli e Risico l'ho portato per scherzo perché dopo aver fatto due mesi in trasferta diciamo che qualunque cosa era ben accetta le vado a giocare a Kindomino e devo dire che abbiamo passato 4-5 serate lì all'albergo a giocare perché le regole si spiegano in due minuti tutto sommato è un simil domino come dice anche il nome quindi un po' tutti avevano già un'idea di cosa si potesse fare l'unica cosa forse un po' più complessa da capire al primo giro è come si fanno i punti però la partita dura 10-15 minuti la prima partita non hai capito come si fanno i punti poi perdi e capisci come si fanno i punti la partita dopo la giochi diversa e da lì ti inizia a divertire tanto che dopo un po' è entrata a dirmi vabbè ma la prossima volta che torni giù in Italia e ritorni qua in trasferta se porti qualcos'altro lo giochiamo e ho portato qualche giochino sì abbiamo giocato questo le tre di inchiostro insomma giochi simili un altro gioco che secondo me al di là di Carcassonne che ha fatto vedere prima Adriano che piace a tutti io ho fatto giocare i miei genitori che hanno più di 80 anni e lo giocano volentieri ok magari senza la regola quella dei dei contadini che li ha andati un po' in confusione ma per il resto invece lo giocano e lo giocano volentieri è Azul Azul che penso voi conosciate tutti scusate ok qua è un gioco bello bello è un bel gioco ecco grazie non dura tanto perché 20-30 minuti le regole sono banali perché pesca una tessera cioè pesca un colore mettilo lì c'è da capire un po' le penalità e forse il conteggio dei punti all'inizio può creare qualche difficoltà ma di per sé il gioco è banale cioè le regole sono banali poi da lì a saperlo padroneggiare a giocarlo bene ci passa un abisso come dire ti insegno a giocare a dama e poi giochi a dama sono cose diverse Azul la stessa cosa il gioco di per sé lo impari veloce poi le strategie cosa ti conviene prendere non prendere per far pagare penalità agli altri è un'altra questione però quello secondo me dopo che hanno fatto una partita se gli piace poi iniziano a capire un po' le strategie Ticket to Ride che diceva Glauco io lo prego secondo Azul tu che ce l'hai tutti e tre l'uno perché già il due secondo me è un po' un po' di più il due è più complicato il due c'è più strategia perché c'è la questione del salto torno indietro quindi passo un turno per non pagare delle penalità o perché non mi conviene quindi il due secondo me è un passettino avanti come strategia il tre secondo me è diverso ma è meno cattivo cioè pagare penalità col terzo io non l'ho quasi mai visto con l'uno sì io ci gioco con mia moglie che non è una giocatrice ma Azul piace e lo giochiamo in cattivi cioè a volte giochiamo a dare penalità all'altro e basta o comunque pensi più a far fare penalità all'altro che a fare i tuoi punti Azul 2 è un'altra cosa è un è ancora più strategico tornando a Ticket to Ride che dicevi prima io avevo Ticket to Ride Europa ho preso anche l'espansione Francia li ho onestamente venduti e ho preso Ticket to Ride New York no sì New York perché belli tutti e due belli sono lunghi Ticket to Ride Europa dura comunque un'ora e mezza se la giochi in 4 e Stati Uniti uguali Stati Uniti lo preferisco però ho notato che se fai giocare dei giocatori appunto per la prima volta un'ora e mezza è tanto nonostante io quel gioco lì l'ho provato in trasferta in un un caffè un board game caffè facendo portando altra gente che non sapeva a mia mente cosa fosse hanno giocato e si sono divertiti però quello che mi hanno detto è bello però se durasse mezz'ora e infatti io mi sono comprato Ticket to Ride New York che quando viene qualcuno a casa appunto genitori degli amichetti faccio provare e si divertono perché fanno una partita dura 20 minuti forse anche un po' meno si può giocare massimo in 4 e poi ti chiedono ancora di giocare questo secondo me sono i giochi che un po' utilizzo per tirar dentro qualcuno poi dipende se becchi quello che già gioca sul computer a giochi di manageriali o a civilization e quindi ha già idea strategia e tutto magari gli fai fare anche un gioco un po' più complicato noi abbiamo fatto giocare per la prima volta un ragazzo a cui comunque i giochi a tavola già un po' piacevano a site e gli è piaciuto ma è stato un caso cioè non lo farei provare a nessun altro beh a te non è piaciuto ma lui che era una vita che non giocava ha giocato a Warhammer gioca sui giochi sul computer quella manageriali gli è piaciuto però è un caso più unico che raro io sono guido che se a uno che non ha mai giocato faccio provare site non no non non è il massimo qui si aprirebbe un altro argomento che è quello della che chiamo della dedizione al gioco ma poi poi cioè nel senso in due parole di quanto una persona è motivata a giocare cioè il neofita come dire che potrei definire entusiasta che è così desideroso di giocare ed è interessato a giochi di un in partenza cioè può sembrare strano ma uno qua che si è già interessato a giochi di un certo di un certo livello se ci si trova davanti una persona del genere si può anche usare con con giochi di quel tipo è difficile saperlo prima sono due neofiti diversi però perché uno secondo me è un neofita che ti chiede ma tu hai piaciuto con noi quindi è uno che si un po' propone io mi ricordo quando facciamo parte di una delle prime associazioni che abbiamo fondato molta gente è arrivata così cioè dicevamo giochiamo e arrivava già gente che magari era un po' che non giocava ma voleva giocare eh sì in questi giochi qua io invece li propongo a gente che appunto di giochi non sa quasi niente e sei tu che provi a tirarli dentro cioè la differenza è in un caso sei tu che provi a far vedere la tua passione a un altro sperando che gli piaccia e l'altro caso è qualcuno che comunque ha già delle idee e allora dici ti piacciono giochi a tavola ma sì mi piacevano ah guarda ci sono questi nuovi nuovi giochi cosa ti può piacere un John Crawler un German maggioranza e quindi forse quello è più facile da tirar dentro cioè se becchi il gioco e capisci cosa gli piace è più facile da tirar dentro il neofita che dicevo prima io è proprio chi non ha mai giocato o ha giocato davvero l'ultima volta a Monopoli 40 anni fa e gli dici ma guarda ho cambiato un po' il mondo giochiamo ad Exit ecco che è un altro gioco che in base al tipo di gruppo secondo me piace a me non fa impazzire però ad esempio le mie figlie che sono piccole 5-8 anni hanno imparato a giocare e iniziano a guardare le carte a trovare dettagli e a provare a cambiare un po' il nome il gioco perché sennò ci vanno sempre queste cose secondo me lì dipende anche un po' dalle persone però se hai tanta gente e hai gente con un po' di fantasia quello è un altro gioco che puoi proporre caspita ok concludiamo con una richiesta che faccio ad Adriano nel senso che lui ce lo racconterà sul blog però volevo che ne parlassi un attimino per chiudere ed è un titolo che non è per neofiti però potrebbe essere per neofiti anche i giocatori nel senso che gente che non gioca a wargames che viene tirato dentro a giocare a wargames vediamo di cosa ci parla giusto per concludere questa cosa cacchierata comincio aspetta che ok scorre quindi gioco di qua la faccia di là ma vabbè comunque il gioco è questo Undaunted Normandy ecco un titolo che ho provato di recente che devo dire mi ha decisamente entusiasmato è un wargame che potrei definire a giocabilità agevolata e complicazione nascosta proprio in estrema sintesi naturalmente non ve ne sto a parlare in maniera in maniera diffusa poi chi vorrà potrà leggere l'articolo dove insomma parlo un po' di più però è un gioco veramente che prossimamente conto di utilizzare allora prossimamente quando saranno cambiate le condizioni generali conto di poter utilizzare per chi fosse interessato ad avvicinarsi al settore dei wargame io lo gioco io lo provo tra l'altro avevo avevo già provato Undaunted North Africa che è la versione ambientata nel teatro diciamo Libia Cirenaica comunque africano della seconda guerra mondiale qui abbiamo inglesi contro italiani mentre in Normandy abbiamo americani contro tedeschi la differenza tra il Normandy e il North Africa è data dal fatto naturalmente la meccanica di gioco è uguale al di là dei diciamo di chi si affronta le differenze sono sono due uno che in Normandy abbiamo delle squadre che sono bilanciate o meglio sia gli americani che i tedeschi dispongono di mortaisti mitraglieri fucilieri scout in ugual misura mentre in North Africa c'è una c'è una minora c'è più differenza sostanzialmente perché gli italiani dispongono di truppe regolari mentre gli inglesi dispongono di truppe che sono quelle che procedevano con le con le incursioni inoltre in North Africa sono presenti anche i mezzi corazzati i mezzi di trasporto che in Normandy sono completamente assenti quindi c'è una meccanica ulteriore ma resta il fatto che ho trovato entrambe le versioni entusiasmanti ma perché la dinamica di gioco è così veloce da portare a riprodurre scontri che in certi momenti mi hanno ricordato Band of Brothers la serie Salvate il Soldato Ryan soprattutto con il Normandy ma anche in North Africa è veramente diciamo è allo stesso livello ecco sono entrambi i giochi in particolare il Normandy che dal mio punto di vista potrebbero essere utilizzati proprio per anche per il per il neofite interessato al wargame perché la complicazione del gioco è stata è stata volutamente contenuta può essere aumentata ma diciamo per com'è il gioco ha questo vantaggio ecco decisamente e può dare soddisfazione anche a chi neofita non è perché insomma io mi sono divertito mi sono divertito un sacco oltretutto in questo periodo ovviamente si gioca da soli quindi mi sono detto se mi sono così divertito giocandolo da solo per provare capire un po' com'è il gioco figuriamoci davanti all'amversario vero che che cosa dovrebbe essere cosa sarà insomma ok quindi quello che abbiamo capito è fondamentalmente che abbiamo bisogno di neofiti nel senso che il giocatore da tavolo cerca sempre nuove persone con cui giocare e per far questo però deve utilizzare i giusti giochi nel senso quelli che hanno sia la facilità sia la lunghezza che permette di non stancare il neofita che ha le prime partite quindi diciamo che tutti i titoli di cui abbiamo parlato sono validi per aumentare appassionati e portare più persone possibili al tavolo diciamo che da queste sono nate anche tante altre idee per le prossime chat per ora chiudiamo qua e ci presentiamo più cari che mai alla prossima nostra live grazie